Mi piace questa intro, la voglio vedere altre mille volte Passo la giornata a guardare l'intro di NiniDri E ciao a tutti che venite NiniDri, io sono Nina e benvenuti in questo nuovissimo video di Adomi Ragazzi oggi farò una challenge bellissima Infatti oggi andrò ad aprire più di 20 mumy cat box insieme a mio papà In più andremo a fare un mumy cat neon Quello bianco non mi piace tanto però sono riuscita a crescere quelli neri Quindi lo faremo nero Oggi ragazzi è un giveaway bellissimo per voi Infatti ve l'ho detto la settimana scorsa che sarà un giveaway speciale Questo giveaway di oggi sarà una pozione fly E noi prendiamoci gacchere e cominciamo a sovraggicare Eccoci qua ragazzi, sono con mio papà Ciao ragazzi Stiamo crescendo insieme, me lo scaletto un dog Perché sto cercando piano piano di fare un po' tutti i pet di Halloween e Neon E niente quindi mio papà ha deciso di aiutarmi un pochino a farlo crescere E quindi lo stiamo crescendo insieme Allora andiamo ora subito a fare il mumy cat neon Ce ne abbiamo... Ah ok, perché uno l'ho vestito Ok, ce ne abbiamo quattro full grown Vai Ciao perché secondo me il black mumy cat neon è uno dei miei preferiti, sapete È bellissimo Vediamo adesso come è neon Ragazzi vediamo Vediamo È a terra però vabbè Oh Dio, fa paurissima Guarda gli occhi Guarda gli occhi Guarda gli occhi Mamma Che bello Fa paurissima Guarda gli occhi Guardate gli occhi Cioè aspettate ma nel giorno non hai gli occhi così scusatemi Quando abbiamo preso Quando abbiamo guardato il coso Non è che dove fai gli occhi così Vediamo Non mi ricordo No Ma no, ma nel giorno allora dai gli occhi Vabbè Vabbè Vabbè, vabbè, lasciamo stare Come chiamiamo questo bellissimo mumy cat Allora Black Aspettate devo parlare a me Vabbè lo chiamiamo solo così che Oh, ho scherzo Oh, ho già Trade, vabbè Eeeh Ce l'ho già la Fenix Allora Andiamo Papi tu quanti caramelli ti sei farmato? Allora Io mi sono comprato un po' di caramella E ho 6.000 Io invece non ho sciopato praticamente niente Sono stata completamente a farmare tutte le compro 6.000 E io E io Sono rimasta a farmare Tutti i giorni Hai 8.000? Eh già 8.000 Wow Se vi chiedete come ho fatto a vederlo Perché siamo vicini Quindi mi può vedere Sto arrivando Troppo bello ragazzi Cioè è uno dei miei preferiti Neon sapete Cioè È bellissimo Troppo bello Ok Speriamo di avere il gol di mumy cat Allora Questa sfida consiste nel Eeeh Praticamente Apriamo prima 10 All'inizio ovviamente Apriamo 10 E chi riceve prima il leggendario Vince la prima partita Poi altri 10 Beh facciamo Se apri 10 tu 10 io Facciamo 5 e 5 testa Vediamo se riceviamo qualcosa Sì ok Vai Vai prima tu Oppure prendiamo io 10 E tu 10 Ok Può essere sì dai Allora Prendiamo la prima intanto E la apriamo Aspetto che tu la prendi Bravo Ok Vieni qua Vediamo io cosa dicevo Go 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 The mummy cat Ah 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 Leggendario Subito ragazzi Incredibile Che Ma com'è possibile Ma com'è possibile Il primo round l'ho vinto Hai vinto subito Hai aperto un black mummy Black mummy Ok Adesso la prendo anche io Eh un po' bu Però Vabbè Prendiamo Ne ho preso uno anch'io Aspetta aspetta primo l'apro io Perché sei a due Io sono a uno Ok Anche io black mummy cat Prendo un altro Ok vai tu prima Vediamo Cosa riceverai Un no Non vogliamo fare Un black Di nuovo Ancora black Ragazzi Tanti black Vediamo ora il mio Cosa esce Un ancora black Va bene Un attimo Sono terzo io E io non mi ricordo Ancora Ah si Ora ho aperto il terzo Ok Ora io white Bene Ok Allora quarto Prendi Quarto Apriamo Apriamo Black Vabbè Quinto Aiuto ragazzi Ci metteremo un sacco Però vabbè Allora quinto Come va Lo richiederemo Quinto Black No vai Ah Anch'io Io black Beh perché black È meno raro Quindi si trova più spesso Esatto Allora vediamo Vediamo Apri un Ok Uno black Perfetto Quanti siamo? Sei Sei Doveva essere sette adesso Ah ok Ora siamo al settimo E se E se Allora Se ne apriamo Se ne apriamo altri tre Allora Cioè Se ne apriamo altri tre Ne facciamo dieci E quindi Ho vinto Io se tu non ricevi un altro gold Io sono già a tremila Eh dobbiamo già farli tutti Perché sono Io ho già speso tutti i soldi Sono ottavo Ottavo Bianco Bianco che tu Tu Anche tu Black Oh Fede Vediamo No A questo punto Allora sprechiamoli tutti i soldi Che ti posso fare Che ti posso dire Questo è il Decimo Sì Ah No Tu Hai aperto nove Sì Mi manca anche il decimo Oh Anzi Secondo me Non ce ne abbiamo A fare un'altra partita Però comunque Ne apriamo altri due Ci avevamo soldi In teoria Per altri due Vediamo Vediamo Black Anch'io black Io posso prendere l'ultimo L'ultimo Ok Io ne posso prendere Ancora qualche Vai Vediamo Vediamo Cosa hai avuto White White Niente Niente Non andare per me Uffi Ok Io c'ho ancora un po' di soldi Ho avuto intanto Quello nero Andiamo Ok Posso aprirne Questo Più un altro Però Non è diventata poverissima Però vabbè Lasciamo stare Mi togneremo White Ok Ultimo ragazzi Ultimo Perché non ho più Non ho più soldi Ecco Infatti ne ho 47 Vediamo bene No black Uffi Ho ricevuto 9 Senza contare Quello che c'avevo 9 black Mummy cat 4 white 4 Solo 4 Mamma mia E un uomo leggendario Al primo colpo Io ne ho 7 white Se vuoi te li do un po' Quindi in tutto Ne abbiamo aperti Quanti 25 25 box Sì 25 Perché se io ne ho aperti 14 Tu 11 Quindi 25 Sì E abbiamo ricevuto Solo Un leggendario Io Hai vinto tu Al primo colpo poi Bellissimo Guardate che bello Questo golden Mummy cat Bellissimo Bellissimo A parte che non ha un occhio Però vabbè Allora ragazzi Per il giveaway Dovete lasciare Mi piace a questo video Iscrivetevi al canale Se non siete già iscritti E dovete scrivere Nei commenti Partecipo con il vostro nickname Ebbene ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se così cliccate Un pollice in su Iscrivetevi al canale Cliccate la campanella Per avere tutte le notifiche Di mio canale E ciao Alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi